Ed eccoci quindi in questo terzo episodio per concludere la storia di Dragon Ball Z Kakarot, ma conclusa la storia arriveranno altri video per tutte le missioni secondarie, per sbloccare mosse, trasformazioni e così via. Mi raccomando, lasciate un like assolutamente, iscrivetevi ora al mio canale YouTube tappando la campanella delle notifiche e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio che vi invito a recuperare. Ed eccoci qua ragazzi, benvenuti, bentornati su Dragon Ball Z Kakarot in questo terzo episodio, credo che sia il terzo episodio di questa serie dedicata al DLC. Come vedete Freezer è scatenato, ma Vegeta si è appena trasformato in Super Saiyan Blu. Suppa Saiyajin Blu, lui fa una sfera dorata, è una nuova Suprema? È una nuova Suprema, sì, bella bella. Superattacco Big Bang? Parliamoci chiaro ragazzi, noi qua siamo molto ma molto più forti di Freezer, perché il mio livello è 253, quindi Freezer qua potenzialmente abbusca proprio. Raggio Letale Dorato! Vabbè ragazzi, è la mossa, è la Suprema di Xenoverse 2, eh? Solo che qua era chiamata in maniera diversa, vabbè, però alla fine è quello, eh? Spostiamoci un po'. Guarda, guarda, l'aggio Letale Dorato. Lama Letale Dorata, ragazzi, sono mosse bellissime. Mamma mia! Bravo, bravo Freezer! Eh, no, però, non ti spostare, scusami. Cioè, vedi che sto a fare un attacco, ti sposti, sei proprio maleducato. Fatelo dire. Eh, quindi si vede finalmente la tua maleducazione. Maglia! Oh, eh, Freezer, ma stai un po' moggio, dai! Oh, guardate che Super Saiyan Blue! Che scarica stupenda da Super Saiyan Blue! Vabbè ragazzi, qua cambiano le combo, ovviamente, eh? Belli... Ok, che è nel guerriero! Waiju! Ma è stupendo! Guarda come impazzisce Freezer! Waiju è impazzitissimo! No, Waiju si è gasato un botto. Guarda mo' che fa, mo' mi lancia 50 mila dischi. Vabbè, Waiju è impazzito proprio. Bello, bello, però mi piace. È bello sto scontro. Me lo sto godendo alla grande, guardate com'è arrabbiato! Si è teletrasportato. Bravissimo! Eh, così si busta tutte le statistiche. Lo devo fermare subito! Fermiamolo! Prima che ce la lancia. Buono! Eh, ma qua è buscato! Mamma! Mamma mia Vegeta che gli hai fatto! Vegeta che gli hai fatto! Mamma mia! Vegeta! No, Vegeta mi stai facendo divertire. Lo dico, ragazzi, lo dico. Mi stai facendo godere, Vegeta. Te lo dico, eh, forse su YouTube queste cose non si possono dire, ma... Ragazzi, dai! È su! Eh, ogni tanto fatemi di una cosa pure a me, perché sennò uno qua si trattiene sempre e trattenersi non va bene. Eh, volevo curarmi, non ci sono riuscito più di tanto, ma mo' che facciamo? Abbuschiamo! Vegeta, non abbuschiamo qua adesso perché, per favore, eliminiamolo. Attacco Big Bang e abbiamo concluso. Scontro molto bello, mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto le scene in cui Vegeta colpiva Freezer. Ed ora c'è il filmato, godiamocelo. Wow! Bello, bello, bello. Ragazzi, arrabbiatissimo, furioso. Ma che scena! Che scena! Questa è una miniatura del video, voglio... Freezer, che fai? Sto pantita, pantita! Mamma mia, ragazzi. Ok, quello che sta succedendo adesso ve lo lascio godere, figuratevi. Però, oltre a farvi vedere il gioco, che in ogni caso potete giocare anche voi il DLC, se guardate questo video è perché probabilmente siete anche affezionati a me. A parte scene bellissime, veramente fatte molto bene, quindi complimenti, bravi, bravi sviluppatori qua. Volete anche il mio parere, probabilmente. Qual è il mio parere? Che qua nel gioco tutta questa scena è stata fatta in maniera veramente bellissima, bravi. Quindi questo DLC sicuramente è migliore rispetto al primo, già da ora posso dirlo. Non mi piace però la scelta proprio narrativa. La scelta narrativa qual è? Di far distruggere il pianeta, di aver fatto in modo tale che Goku non servisse praticamente quasi a nulla, e che la Terra quindi è persa. E loro, per quanto abbiano due trasformazioni potentissime come il Super Saiyan Blue, che cosa devono fare? Devono intervenire grazie a Whis tornando indietro nel tempo? È una cosa che non mi è piaciuta. Goku e Vegeta avevano tutto il potenziale di battere Freezer senza perdersi in chiacchiere, senza fare errori. Lui è in grado di sopravvivere nel vuoto cosmico, è stato molto furbo. Sta parlando ovviamente di Freezer, quindi lui si sarebbe salvato. Se la Terra è sparita, allora non abbiamo più nemmeno le sfere del Drago. Non possiamo far tornare in vita nessuno. Pare proprio di sì. Avrei dovuto dargli subito il colpo di grazia. Sei pronto a rimediare al tuo errore? Eh? Tutto questo è accaduto per via della tua ingenuità. Invece di sconfiggere subito Freezer, hai preferito divertirti e ti sei distratto. Ecco ragazzi, in Dragon Ball vorrei che questo errore andasse pagato. Ovviamente così non sarebbe continuato Dragon Ball perché la Terra è scomparsa, tutti andati all'altro mondo. Lo so. Però, trovami un'altra soluzione. Magari che è sopravvissuto piccolo e quindi loro nello spazio recuperano le sfere del Drago disperse, per dire. Ma proprio per dire, è una cosa che mi è venuta in mente ora. Però non mi fate che Goku sei stato brutto e cattivo, hai sbagliato, quindi adesso Whis ci fa tornare indietro nel tempo così puoi rimediare. E no. E allora diventa una barzelletta tutto. Non sto dicendo che Dragon Ball Super è brutto, non sto dicendo che questa saga è brutta. Però purtroppo non è assolutamente, a mio parere, il picco massimo di Dragon Ball Super. Assolutamente no. Anzi, lo vedo tra i bassi di Super. Peccato perché era l'occasione perfetta per dare spessore a Freezer, per dare spessore a Vegeta. E quindi fa ritornare un grande avversario che praticamente era potentissimo. Quindi potrò distruggere Freezer? Sì, perché gli ha spiegato che possiamo tornare indietro nel tempo. Fai in fretta e salverai il pianeta. Loro ci hanno tre minuti per tornare indietro nel tempo. Quindi si stanno pure a perdere in chiacchiere. Lo faccio solo perché mi dispiacerebbe non poter più mangiare i manicaretti terrestri. Virus, basta dire bugie. Come ho già detto, non sbagliare. Certo. Ora riavvolgere il tempo. Sei pronto? Quando vuoi. Vai, facciamolo in modo tale da ritornare. C'è una sorta di rewind, come lo chiamate. E si ritorna al momento in cui Vegeta sta per colpire Freezer, probabilmente. Ecco, quindi c'è il rewind. Si è tornati indietro nel tempo grazie a Whis, ma... Goku mi sa, mi sa che devi intervenire. Però io spero che non lo elimina con un colpo. Io voglio fare la battaglia da Super Saiyan Blue contro Freezer Dorato. Io prima non ho utilizzato il Super Saiyan Blue negli episodi precedenti, mi pare. Contro Freezer perché lo volevo utilizzare poi nella battaglia finale. Non mi togliete la battaglia finale contro Freezer Dorato. Per favore, please. Ok. Lui fa il sorrisino. Sta per colpire dalle sue mani col colpo energetico. Freezer, perché in questa posa... Diciamo... Strana. Goku, intervieni. Su. Eccolo. Nani? Uuuuh. No, l'hai eliminato così. Ah, ok. No, meno male. Meno male, già ci stavo rimanendo malissimo. Uuuuh. Vai così. Super. Saiyan. Quello che volevo. Bravi sviluppatori. Allora, il DLC, ragazzi, non ricordo quanto costa. Mi pare sui 10 euro o il season pass intero era 10. Non ricordo. Questo DLC qui già vale più la pena, secondo me, rispetto al primo. Il primo non c'era una vera storia. Qua c'è. Ci sono dei filmati. Questo dovete fare. Sì. 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 Ovviamente la storia magari sarà comunque breve, eh. Quindi valutate l'acquisto, a prescindere. Però, così già ci siamo. Perché mi hai messo pure i filmati. Mi hai fatto vivere la storia. Bella battaglia. Adesso ci facciamo. Vai. Super Saiyan Blue. Adesso, ragazzi, mo ci divertiamo. Non ricordo nemmeno qual è il tasto per pararsi, ovviamente. Però, alla fine, conta cercare di abbattere... Sto premendo tutti i tasti, voglio. Non mi ricordo qual era. Eh, non ci gioco da troppo... Goku, però ripigliati da terra, per favore. Ok, se no, già ripigliamo più. Via, via. Questa sfera è troppo grande. Mamma mia, meno male. Allora, io provo... Oh, ha colpito comunque le spalle. Ma che ha fatto? Assurdo. Spada dorata. Questa è una mossa che c'ha pure... Direttamente in... Dragon Ball Legends. Molto bene. Ok. Vediamo se riesco a colpirlo con la camia mia divina. Però se faccio sta camia mia divina... Io ritorno Super Saiyan God. Però l'ho colpito. Ah, ragazzi, gli faccio i danni. Mamma mia, se glieli faccio. Attenzione al raggio letale, quello là. È duro da... Da tenere testa, eh. Via, via, via. No, mi ha colpito un po'. Vabbè. Dai, dai, ce la caviamo. Non è un problema. Non si ferma. Andiamoci di scarica adesso. Oh! Ed ecco finalmente la scarica da Super Saiyan Blue. Bellissimo! Bello, bello, bello. Io sto continuando a colpire. Pure lui continua a colpire. Waddu, ma questo non si ferma. Sfera che è in Kitama definitiva. Va, proviamo così. Lo colpisco per bene. Ah, con questa sì, finalmente. Attenzione alla vita! Ma quando c'ho il Super Saiyan Blue... Non l'avevo capito, ma mi sa di sì è così. Che sta a fa' Goku? Oh! Se era impallato il tasto, continua a ricaricarsi. Impazzitissimo. Non lo so perché ha fatto sta cosa. Quando è il Super Saiyan Blue attivo... Non me ne ero accorto, ma ho l'impressione che l'energia, la vita, si ricarica autonomamente. No, non è così. Ah, perché teniamo la scarica attiva. Ok. Adesso ho chiarito tutto. Tutto chiaro. Mettiamoci qualcosa per curarci un attimino. E direi di andare con una camia mia divina. Ma che fa' Mu? Questa è ancora un'altra mossa! Mamma mia, bellissimo! Che cosa sta succedendo? L'ho abbattuto io! Attacco a seguire? Ma che spettacolo! Bellissimo! Ma cosa fa'? Voglio, che sta succedendo? Mamma mia, come godo! Voglio, bellissimo! Spettacolare! Fra! No, voglio, io ritorno bambino quando vedo queste cose. Se io mi agito, mi agito perché io nel 2020 so ancora divertirmi con i videogiochi, so ancora godermi un gioco, voglio, bello. So ancora godermi Dragon Ball, bello, bello, bello. Mamma mia, voglio, come l'abbiamo eliminato, mamma mia! Ma ancora non ci credo. Voglio, una conclusione stupenda. Un altro po' di dire sì, vale il suo prezzo solo per sta scena finale. Wow. Wow, voglio. Sono impazzito, ma avete visto perché è bello, bello. Freezer, quindi, si è fatto la cartella, ci saluta. Wow. Che cavolo ti è saltato in mente? Credimi, avevo i miei buoni motivi. Anche perché Vegeta, essendo stato eliminato e tutti gli altri appresso, non sapevano nulla di cosa sarebbe successo. Era ancora il mio turno. Papà, cosa è successo? Ecco... Questo sì che è imbarazzante. Un dio della distruzione che salva un pianeta invece di polverizzarlo. Non faccia così, Lord Beals. In fondo, questo ci ha permesso di salvare il delizioso cibo della Terra. Quei due sembrano aver padroneggiato appieno il loro nuovo potere. Oserei quasi dire che potrebbero darle del filo da torcere se solo sapessero collaborare. Ne dubito. Ha riavvolto il tempo, eh? Capisco, anche se è difficile da credere. Se c'è qualcuno in grado di farlo, quello è Whis. Sai, stavo pensando una cosa. Stavolta ce la siamo cavata. Ma avremmo potuto distruggere Freezer in un attimo se avessimo combattuto insieme sin dall'inizio. Ah, ci è arrivato finalmente. Preferirei morire. Non mi serve il tuo aiuto né quello di nessun altro. Ha ha ha. Mi fa piacere saperlo, Vegeta. Anche io preferisco combattere da solo. Hm. Quei due sono impossibili. Andiamo, Whis. Perlomeno ora sono d'accordo su qualcosa. Ho ho. Va bene. Ci sta. E così il piano di Freezer per invadere la Terra e vendicarsi di Goku fu sventato. Molto bene. Ma vi dico una cosa, ragazzi. Noi, il DLC non è finito qua. Ci sono altre tante cose da fare. Le vedremo in prossimi video. E il video non finisce, ovviamente. Perché vediamo che succede. Goku e Vegeta erano già pronti a riprendere il loro addestramento. Ma che sia un'anticipazione del prossimo DLC. Bellissime ste scene. Per diventare ancora più forti e superare ogni limite esistente. Bello. Bello, bello, bello. Sarà stato l'ultimo scontro fra Goku e Freezer? Solo il tempo potrà dirlo. Molto bene. Molto bene. Completare il risveglio di nuovo potere. Va bene. Ora che è terminata la storia puoi accedere a nuove storie secondarie. Cerca le persone che hanno bisogno del tuo aiuto. Vabbè, ragazzi. In pratica si fanno le missioni secondarie. C'è una nuova sfida con Virus. Probabilmente adesso è ancora più forte. Ora puoi usare Trunks del futuro. Non so per quale motivo. Storia secondaria sbloccata. Ragazzi, in pratica adesso ci sono le varie missioni secondarie. Cos'è il guerriero del pianeta Precar? Precar non l'ho mai sentito, però potrebbe essere una mia mancanza. In ogni caso, tutto questo lo faremo assolutamente in un prossimo video, perché sono curioso di scoprire chi è questo guerriero. Mi raccomando, quindi lasciate un like, iscrivetevi ora al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche e fatemi sapere che ne pensate della storia di questo DLC. Alla prossima. Ciao.